Comentiamo proprio la caduta delle spallette di questo ponte. Giovanni dove siamo qui? Siamo nel Vallone Trubbolo, località Rudel. Ah, località Rudel. Insomma, che è successo? Sono erose le spallette del cuore. L'arpa erose le spallette. Quel muro? Sono le spallette del cuore. Ah, quindi non ha tenuto? No, è da eroso alla fondamenta. Ho capito. Questo ponte quando è stato fatto? Direzione, l'anno scorso. L'anno scorso? Vabbè. 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 Grazie.